ecco l'usa ecco l'usa ecco l'usa che spettacolo malattissimo malattissimo Nick ragazzi il miglior stunt rider di Youtube Italia altro che quella mezza e seghe lui si che può insegnare a tutti tanto gli si è spenta la moto non sappiamo i motivi eccola guarda che spettacolo ma poi quanto va forte quell'usa e quanto lo fa andare forte lui ma che forte che forte scrape scrape attenzione on live Nickusk scrape attenzione attenzione ma che classe che classe una mano sola una mano sola altra moto sul fasce solo lui solo lui che panorama che malato è sto panorama tanto là c'è Tiger ragazzi lui lui potrebbe veramente insegnare in una scuola di scraping ragazzi ma l'avete mai visto uno stunt rider così che fa robe del genere si vabbè direte bizarro quelli compagna bella ma ragazzi lui è pari livello se non meglio raga ma stiamo scherziamo ha solo qualche follower in meno ma a livello capacitativo è disumano guarda qua come fai ad essere così forte nel fare sta cosa oh che panorama guardate guardate con che semplicità con che classe signore e signori nei Cusk ho grattato anch'io guarda io ho grattato il ginocchio lui ha grattato qualcos'altro vai Ale che panorama stop in live attenzione by Nekusk oh my god the real italian quavoli oh my god Nekusk